Sono stati giovani quelli che per primi hanno sentito l'esigenza di manifestare, di riappropriarsi di uno spazio, quello delle strade e delle piazze del quartiere, per poter guardare al loro futuro in maniera positiva, liberi dalla paura che qualcosa di brutto vi possa accadere. Era una manifestazione necessaria perché è giusto che una città come Vimo Valencia si sveglie e non abbassi la testa. È un segno che diamo alla città contro le intimidazioni sicuramente di persone che ci vogliono intimidire ma noi rispondiamo comunque come possiamo. Questo è un simbolo, un segno della nostra presenza che Vimo non è solo mafia ma è anche partecipazione. Rivendico il mio futuro.